Cari amici, come ogni anno mi preparo per la festa di Halloween dei bambini e per l'occasione ho pensato di fare una torta buonissima alla zucca, profumata, soffice e veloce da preparare. Ma vediamo prima quali sono gli ingredienti che ci servono. 350 g di farina, 200 g di zucca grattugiata, 300 g di zucchero di canna, 4 uova, 250 g di mandorle grattugiate, 200 g di burro morbido, un limone grattugiato e il succo, 2 cucchiaini di cannella, mezzo cucchiaino di cardamomo, un pizzico di sale e una bustina di lievito per dolci. Dopo aver lavato e pesato la zucca che ci serve eliminiamo i semi e i filamenti al suo interno e la grattugiamo. Io per farlo utilizzo una semplice grattugia. Per questo dolce utilizzo la zucca ocaido perché mi piace la sua consistenza ed è perfetta per fare il dolce ma anche per il suo bellissimo colore. E dopo averla grattugiata la tengo da parte per dopo e in una ciotola capiente rompo le uova e le utilizzo intere e a temperatura ambiente così i grassi si ammorbidiscono e si legano più facilmente agli altri ingredienti così avremmo un impasto più omogeneo, più leggero e più arioso. Alle uova uniamo lo zucchero semolato ed il burro morbido e sbattiamo tutto insieme con le fruste fino a raggiungere una consistenza liscia e spumosa. Adesso uniamo le mandorle grattugiate, la cannella, il cardamomo e il pizzico di sale e continuiamo a sbattere con le fruste e saranno proprio queste spezie a dare tanto profumo alla nostra torta. Quando anche le mandorle grattugiate e le spezie si saranno incorporate agli altri ingredienti grattugiamo un limone biologico dopo averlo lavato e asciugato. E dopo averlo grattugiato ne spremo il succo e anche il limone come gli altri ingredienti darà un profumo delizioso a questa torta. Dopo aver spremuto il limone e il profumo è davvero delizioso, immischiamo ancora con le fruste. E ora è arrivato il momento di incorporare nel composto la zucca, la farina che ho setacciato precedentemente ed infine il lievito per dolci. E azioniamo un'ultima volta le fruste. Finché tutti gli ingredienti si saranno amalgamati insieme e avremmo ottenuto un composto cremoso, granuloso e non liquido. Dovrà essere piuttosto solido. La preparazione della torta è giunta al termine e ora non ci resta che trasferirla in una teglia da torta. Questa che sto utilizzando io è una teglia da 24 cm imburrata e infarinata e io ho messo sul fondo della carta forno. Ci versiamo dentro il composto ed è così cremoso e così goloso che fa venire voglia di mangiarlo a cucchiaiate crudo, ma sarà meglio avere un po' di pazienza e aspettare. Adesso lo livelliamo per bene e per farlo ci aiutiamo con la spatola. E non ci rimane che infornarlo. Va in forno statico 180 gradi per circa 60 minuti, ma dipende anche dal vostro forno. Quindi controllatela e mi raccomando non fatela bruciare e per essere più sicuri fate la prova a sticchino e quando avrà raggiunto questo colore e vedrete delle crepe la torta è pronta e prima di toglierla dallo stampo vi consiglio di farla raffreddare completamente e solo quando si sarà raffreddata la cospargiamo di zucchero a velo. E non solo in cucina ma per tutta la casa si sente il profumo speziato di questa buonissima torta. Ed infine non vi rimane che decorarla secondo i vostri gusti e la vostra fantasia. Io adesso ne taglio subito una fetta così vi faccio vedere com'è al suo interno ed è così soffice che tagliandola ho paura di romperla. E guardate che bella è sofficissima e profumata. Per la festa di Halloween sono invisibile ma la torta la mangio lo stesso. Che buona è davvero buonissima. È così soffice è la zucca e le mandorle che si sentono sotto ai denti sono stratosferiche. E adesso fatela anche voi sono sicura che vi piacerà. Aspetto i vostri commenti e per chi non l'avesse ancora fatto iscrivetevi al mio canale. È gratis. Grazie per aver guardato il video. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!